I giovani democratici guardano al futuro i prossimi appuntamenti elettorali ma anche alla fine di questa legislatura rifacendosi al programma del vicepresidente della regione Giovanni Lolli si parla di programmi e anche di priorità, alcune in particolare? Assolutamente sì, noi vogliamo collegarci già al patto di fine mandato citato da Giovanni Lolli che è stato anche scritto in modo egregio e vogliamo collegarci con due punti essenziali che sono a noi cari, i sportelli in forma giovane e l'università. Io mi volevo concentrare un attimo sullo sportello in forma giovane, ce ne sono già in Abruzzo, sono ovviamente precari, non c'è personale diciamo troppo qualificato e vogliamo dare un attimo una rinnovata a questi sportelli perché sono sportelli nevragici secondo noi per i giovani abruzzesi, sportelli che dovrebbero comunicare offerte di lavoro, bandi europei, attività di volontariato, Erasmus, promozioni di attività culturali, attività turistica, attività sportive, sono sportelli che a 360 gradi dovrebbero dare un'informazione ampia ai giovani abruzzesi che non trovano canali istituzionali competitivi. Un'altra priorità è l'università. Per l'università abbiamo immaginato un percorso che ci porti ad aprire un tavolo di lavoro con le associazioni universitarie che fanno riferimento al campo del centro-sinistra e in cui molti dei nostri ragazzi anche militano all'università, compreso me, quindi Ludu L'Aquila, Ludu Teramo e 360 gradi a Pescara, per studiare provvedimenti da inserire nel patto di fine mandato e nel programma dei giovani, il programma generazionale per i prossimi cinque anni del centro-sinistra. E a questo tavolo però noi arriviamo con delle proposte già studiate, che sappiamo però essere anche grandi cavalli di battaglia dell'associazione, i quali un discorso di regolamentazione sugli affitti in Abruzzo, nelle città universitarie, e una carta servizi di tutti gli atenei abruzzesi che possa mettere in comune la forza dei tre atenei e dare un servizio veramente regionale per evitare anche una mobilità passiva a livello universitario, che è un grande problema dell'Abruzzo.